come al solito prova microfono 1 2 3 prova prova come al solito prova microfono si si quindi ragazzotti come va come va tutto allora vediamo un po' se riusciamo a risolvere questo lar io volevo andare ad aiutare il povero amico barbone in realtà ne dubito che sia ancora dentro la taverna la taverna vabbè stiamo apri al baretto la taverna Entrato nella... Licenza commerciale Non è comunque comunque ominoso Voglio provare uno di questi strumenti di Bard, per favore Bisogna preparare un appartamento privato Faccio questo Come Stef si arriva con tutti questi nomi? Allora La legge semi-martizzata è una forzatura di armi Scudi, eh? Da pronto l'argento celestero brilla con la potenza di sette soli Siamo materiali molto popolari nelle incoronazioni A matrimoni e per riunioni che si tingono di prima... Si tengono, si tingono Perro, minerale di goblin e polveri di fuoco La scoperta dell'argento celeste di serie Fede fabbro reale del picco del grifone Che fa giurare il primo spadone di Epna Kratos Che è la sorella di Kratos, come tutti sappiamo Seguendo l'indicazione del maestro e chimista Robin Welmore Lui Una moneta d'olio Come un barattamento classico, devo dire Questa musica non è buona Sì? Un giorno... Thaenor si troverà. In realtà sembra legittimo. Oh, la madonna. Golems. L'animazione non è inclusa. Oh, Steph. Spells. Molto bello, Steph. Sono queste spells per vendere? A membri della gilda Sorceria solo. Scusate. Ebbè. Un caso di attacco dei mostri. Uno, riunire i propri cari. Due, lanciare un incantesimo protettivo. Tre, creare un'illusione nella direzione opposta. Quattro, attende l'arrivo dell'Archimago. Che non è garantito. E' opinione diffusa che questo sia lo strumento usato da flitte lingua d'argento. Che cosa è quello di Giorgio? Lero, 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 lero. E' lui più... E' salvatore del principe Clardarine. Non apprezzo, ma si sentono. Vabbè, un gatto vive di... Praticamente è fatto per l'ottanta per cento di cibo. Mischiamo una carta? Che voglio sapere? Che sono le persone? Ryan. Wow, davvero mi piace questa carta. La carta che rappresenta è l'allegria e la vitalità. L'apertura è il vero app... Vedete? Che ho ragione io? Vedete? Oh... Cosa cosa mi dà? Il mio potere? Caros e la distruzione. Eh. Sì. No c***o. Eh... La rivelazione e la fuga. Impressante. Che altro... D'accordo, la razza del... Allora... L'aria misteriosa. Eh, la madonna, ce l'ha bisogno? Steph sembra fantastico. Le strade erano soli di persone. Vabbè. Eh, dici? Vediamo un po' che... Il vantaggio della cura della città. Io sono l'unico vendore di item magico nel kingdom. È troppo male che non avevamo questo qui al pietro. Ah, ok. Questo potevo farlo, spero. No. Quanto money do abbiamo? Abbiamo tre gold. C'è questo 10.000 gold? È sì. È stato molto generoso? È stato originalmente 20.000, ma... No, ho... No, ho... No, ho ho detto... Never mind. Maybe we can make some kind of deal with her. Ehm... Beh... Beh... Come... Tanti ci... No, non... È sì. No, non... C'è questo che... è per una domanda per finire la storia di monstros ho sento che c'è una magica di pesca che vivi in la rivera di sorrows bring me back one of its scales che lo che lo che lo buongiorno carai buon pranzo piccola era quanto viene una moneta aspetta però per ora teniamolo lì così però scusami io voglio la roba figa del fabbro però non mi puoi mettere che c'ho fabbro che mi può far l'arma di cristo e non poter far l'arma di cristo allora se meno scusami io ora voglio l'arma di cristo un secondo in bagno è tutto la natura che ama la natura che ama allora 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 dov'è ripiglietti non ho bisogno di cristo non ho bisogno di cristo non ho bisogno di cristo bisogna percaminare vabbè che è lo scolo di matare che non è male si è staccato su scolri è davvero buono quanto le persone che Steph ha riportato in questo lui si è sempre in cacciato lui è sempre in cacciato dai sei sbullita dai sono contento che non è mai che è che non è mai che è che è Non abbiano fatto veramente un omicidio Dentro il Black Lantern E spero di no Ve lo spero molto vivamente Sì Sì Però Vedete i nomi delle tre petruzze ma Infatti che No Sì Sì Un po' come dentro Eeeh 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 Vediamo cosa possiamo trovare qui Ah ora però è allegro lui Io sono un genio per convincere Stef che il mio carattere dovrebbe essere solo dietro dietro la bar Tutti i drinki che voglio Eeeh 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 Com'è fatto tanto diciamo gli altri Eeeh 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 Allora Eeeh 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 rv è prima vai da da gatta ladra in modo tale da poter prendere il la polvere del troll per poter così usarla contro il troll e diventa amichevole che ti dà quindi la società ma senza dovere combattere poi al black lante per prendere questo modo da poter addormentare il serpente che ti dà la scaglia per poter poi ritornare al ragazza da che ti dà la seconda gemma e invece sono strozzo io sono un cazzo di panzer tedesco potescega vi ammazzo tutti quindi per me è un oggetto i see you've poured yourself some ale nice water you just survived a monster attack i think you deserve a couple drinks on the house truly wise beyond your years we're gonna keep looking around good luck dai alla fine su si sta facendo una i think i checked all the compartments i wonder if allwin the bard would have cracked the tavern top 20 come si chiama veramente vecchio gnomo e non posso passare dietro vecchio gnomo si comunque cazzo si sono impegnati abbastanza qualcuno sa come mantenere feynor busy do you think we could have prevented this if we got here earlier non è una cosa no non è una cosa no non pensi nemmeno dobbiamo concentrare sulle jewel per cui possiamo risolvere il problema per bene credo che questo fa sentido una cosa alla vostra uff un buon giorno per burrare il tavern keeper è molto bello che è questo dove stef get all this stuff direi che il lucchetto è quello lì intanto andiamo a vedere il resto della roba al solito allora sorry stef alwin è molto felice con il suo current gig allora cercasi bar giochi cercasi bar giochi cercasi bar giochi che trattega cene danze decapitazioni eccetera deve essere adulto per spiegarci e generoso preferibilmente moro e con un sorriso irresistibile agai ferlette poi non siamo muori no si siamo muori vendersi spade di seconda mano alfabro ewen respiggi i mostri conquista missuela di erbe segreta quattro monete d'oro per la ricetta appuntamento dietro al gabbiano assistato tutti lunedì a mezzanotte non ha funzionato fanfaronna anche voi avete sentito dei suoni spettrali all'intorno del castello? perchè è bellissima questa cosa un'altra moneta piene di soldi che ormai me ne infido un culo però va bene ho un altro spartito ho un altro spartito non posso aspettare per trasferire dei monstri con i miei suoi amici hipnotici ehm ehm pare i nemici non possono muovere per un turno ma l'altro sono una volta in battaglia ok io quasi quasi per visto che tanto dovremmo combattere il mostro gigante ah si questo kingdom ha problemi seriosi chissà allora abbiamo stormweather patrica sir urulo de tombarolis so cosa so come sarà il mio prossimo personaggio in qualsiasi altra compagna da sir urulo de tombarolis o anche gorrum alito fetente non è male eh bro devo dire è ducky si è 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 Bellin Neera Desir che strasse le loro anime dai loro corpi e le trasformò in tre gemme dal valore inestimabile. Da Neera, il berserk, il più forte dei quattro, nacque il rubino dell'anima. Da Desir, il diacono, tessitore di storie, nacque lo zaffido dell'anima. Da Bellin, il genoveno, l'illusionista, custode dei libri antichi. Nacque l'ametista dell'anima. Con tutte e tre le gemme dell'anima in mano, il quarto eroe afferrò la spada e trafisse la grande ombra con un fascio di luce accecante. Poi, stanco e coperto di sangue per la battaglia, il quarto eroe nascose le gemme, si addentrò nei fitti boschi di Reun e non mai più. Beh, c'ha anche la geoglopedia dei mostri. La Madonna. La Madonna, ma io le voglio vedere ora, però. Ma che cazzo, non le voglio vedere, il mostrario? E che cazzo? E niente. Conti in culi. Una lettera. Lawrence is going to need a new business advisor. Gentile Lawrence, ti scrivo perché ho ripensato al consiglio che ti ho dato ieri sera a cena. Non c'è alcun bisogno di vendere la tua attività. Sono vittucioso che l'era dei mostri giungere presto la sua fine. So da fonti certe che il leggendario ammazza mostri Teynor ha risposto alla chiamata d'aiuto di sua maestra. E invece ti in culi. Io posso anche andare su? Guarda. Ora, prima di fare cosa che tanto so... E siccome non so se un po' magari mi manda avanti. Oddio. Che io, onestamente, prima... Allora, vi spiego. Preferisco dare prima la soluzione a questo perché non vorrei che, bloccando l'ultima cosa, quindi l'ultimo gioiello, poi mi mandi direttamente alla fase del boss finale. Plausibile. Quindi, onde evitare. Guardate quello che ho trovato in quella cazzo. Buon lavoro, Teynor. Qualcuno può spiegarmi perché tutti quelli che sono in giro per stare sono vestiti come se fossi un rinascimento? Nostro bel borgio è stato profatto dall'era dei mostri. Esattamente quello che intendevo. Buon uomo, non badate, chi vi dice di abbandonare le speranze, il coraggioso errore, Teynor, sempre sentato al cospetto del re. Quindi, io vorrei solo andare a prendermi un gelato. Auuu, la riazze tu. Ma perché la gente è cretina? Chissà che è bisogno. C'è un'ottima interessante cosa in là. Pronti per rispondere? Io lo dirò una volta. Ci sono tre, diceva, said heroes long dead fashioned into soul jewels blue violet red what are their names do not be misled their names are uh nira desi rebeline the answer is nira dasis and bellin you solve the riddle you've been told your prize a useful hint behold to bribe that deadly troll of old you have to pay for coins of gold i wish you told us earlier apologies for hints too late please take a coin to compensate i wish we could go back to the tavern when it's full of people thanks allah abbiamo cinque monete allora faccio facciamo la cosa super sozza lasciate fa andiamo alla gazza spendiamo tutto tanto ho già capito che dopo si va al boss penso che ci sia altra roba strana quindi sono cinque monete che tanto quattro me ne servivano se volevate cos'era il troll quindi e tra l'altro carino perché dipende molto se passavi prima da black lantern almeno così trovavi il coso che ti diceva come corrompere il troll grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.